La vendetta degli eretici Giovanni Sarkander, 1576-1620, parroco di Hollescau in Moravia, convertì molti ussiti e fratelli boemi. Ma subì la vendetta degli eretici che lo accusarono ingiustamente di far entrare nel paese truppe polacche e gli fu ordinato di rivelare quello che aveva udito in confessione dal barone di Moravia. Fu torturato e lasciato morire in prigione. Fu beatificato nel 1859. Perché? Commento. Perché la fede che è una forte forma coscienza che riverbera nel piano fisico una forte forma pensiero, attrae chi ama quella fede e anche chi odia quella fede. È attraverso questo meraviglioso meccanismo che la legge crea la successiva evoluzione di chi ama e di chi odia.